Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Benissimo dal numero 11, Berardi, Berardi, Berardi in area di rigore, Berardi in area di rigore, la passiamo e prendila nel culo! Vaffanculo! Let's fucking go! Si cazzo! Locatelli! Let's go! Let's go! Annullami questo! Let's go! Annullamelo questo! Annullamelo merda! Bravo! Ciao Aurora! Ciao Aurora! E grazie mille! Aurora 17, secondo me. Grazie per il secondo Aurora, buongiorno! Grazie per la compagnia Cuore Rosso. Buongiorno, grazie a te per essere di nuovo qua nella Family. Insomma ragazzi, siete tantissimi, quindi buongiorno, buongiorno a tutti quanti! Devo fare una cosa super fast! Io onesti, grazie per le 30 patatine! Grazie mille, grazie mille! Devo fare una cosa super fast ragazzi, perché... mitica Calm! che cazzo che cazzo fa? Tu me il pazzo? Tu me il pazzo è qua? Tu me il pazzo è proprio qua? Ma tu me il cosa cazzo fa 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 fa? ma tu me il pazzo è arrivato qua 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 qua? e tu me il pazzo cosa? Cazzo fa? Fabi他们 qua! 개를 verso quasi 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 qua 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 qua! Qua 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 vediamo se viene servito viene servito in questo momento Toloi smarcato sulla fascia destra ma non viene servito ci si allarga nuovamente sulla fascia sinistra la palla nuovamente buttata in centro non ce la fa ha visto il portiere fuori di un paio di passi e ha tagliato benissimo per Belotti che non era assolutamente in fuorigioco non è riuscito ad agganciare ragazzi sono sicuro attento mi ha fatto 2000 a me questo tronzo ah ha aperto la cazzo delle moto eh? tutto a posto si era aperto la barra delle moto a grand'uore oh no no venga da me veloce bravo questo è preso appena ne scemoci non si fermi per nessun motivo non si fermi per nessun motivo è giusto così no ma è giusto così non potevo più salire giusto così giusto così giusto così giusto così ok 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 sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo me lo meritavo me lo meritavo me lo meritavo sono calmo sono calmo 4 anni che gioca a fortnite muore si ferma in un secondo porca troia perchè smiro alle 8 del mattino perchè sono le 8 del mattino ok ci siamo siamo pronti e carichi con delle scimmie urlatrice carico una scimmia urlatrice però come è la scimmia che le pare andiamo assomiglia una volta ero capace a fare le scimmie ma adesso non ho più let's go dai 1 a 0 Italia conchellini let's go let's fucking go dai let's go 1 a 0 per l'Italia applausi da parte di tutti i giocatori in panchina di tutti i abbiamo fatto le cazzate qui oh girati io vecio ciao bello girati pronto 49 in per ardi 49 in qua ardi deve riuscire a fare deve entrargli una bella partita credo eh io sono fiducioso perchè ha preso la 50 e ardi è uno che con uno scar in mano è pericolosissimo merda no no io sono un coglione però merda non ci voglio credere merda ardi completamente al lì da mo te lo caccio cazzo no vado 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 Grazie a tutti.